Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove scarpe Rebelle Run XT, le nuove scarpe da ultra trail della famiglia Rebelle di casa scarpa, di cui adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dalle caratteristiche di questa Rebelle Run XT. Per quanto riguarda la suola, troviamo una suola proprietaria di scarpa, la Presa con mescola ATR GAM. Un'intersuola con drop di 6 mm in eva a media densità, un'atomaia in TPU con tecnologia EXO, il tutto per un peso di 355 grammi nella taglia 42. E adesso che abbiamo visto un po' di caratteristiche, iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Rebelle Run XT. Come dicevo, suola presa con mescola ATR GAM. Una suola che mi è piaciuta, una suola che ho trovato veramente molto aggrippante su quasi tutte le superfici. Stenta un po' su quello che è il fango. Sul fango, anche fango un pochino semplice, o comunque delle foglie bagnate, lì si scivola un po'. Però vi assicuro che tutto quello che è roccia, roccia bagnata, anche sfasciume d'alta quota, oppure anche tutto quello che è sentiero di fondo valle, single track, li tiene veramente molto molto bene. E poi ho apprezzato molto che comunque la suola corre ad attacco a punta senza avere parte di intersuola esposte. Per quanto riguarda l'intersuola, come vi dicevo abbiamo un drop di 6 mm, abbastanza classico per le scarpe da ultra trail, realizzato in EVA a media densità. L'EVA a media densità diciamo che è il miglior compromesso tra morbidezza e reattività. È abbastanza morbida e abbastanza ammortizzata per farci comunque delle lunghe distanze. Ma comunque è anche abbastanza reattiva. Per intenderci, quando mettiamo dentro il piede non sentiamo che sprofonda all'interno dell'intersuola. E comunque si riesce a correre anche a dei buoni ritmi. L'unica cosa, come vi dicevo, che pesa 355 grammi, quindi si sente che è abbastanza pesante al piede. Quando cordiamo diciamo che ci si può arrivare, siccome è massimo, fino a 5 al chilometro se siamo noi particolarmente leggeri. Altrimenti 5,30. Sicuramente non sotto. La cosa che poi mi piace dell'intersuola è che all'interno troviamo anche un plate in fibra di vetro che va a dare molta stabilità e ci aiuta davvero tanto nella rullata del piede. Quindi veramente un'intersuola molto ben progettato da scarpa. Per quanto riguarda la tomaia, beh, innanzitutto il puntale. Qui troviamo il classico fascione in gomma di scarpa. È un puntale veramente molto rigido, un puntale che se ci prendete a calci una roccia vi assicuro non sentirete nulla. E poi come dicevo, questo fascione in gomma, un uomo più tipico di uno scarpone d'alpinismo, che però scarpa riporta su questa serie ribelle, che va a proteggere veramente molto molto bene tutto il piede, tutta la tomaia, nel caso in cui dovessimo strusciarlo sopra qualche radice o roccia. Poi la tomaia in sé, sicuramente la traspirabilità non è il suo punto di forza. È una tomaia, diciamo che ha una traspirabilità abbastanza nella norma, sicuramente non eccelle per la traspirabilità. E se volete è naturalmente disponibile anche con la versione Colgoretex. La cosa che mi piace di più della tomaia, però, sono queste nervature laterali realizzate con la tecnologia EXO, che praticamente vanno a creare un esoscheletro laterale, che fa sì, innanzitutto, che la scarpa abbia una bella calzata, e ne parliamo dopo. Ma soprattutto che ci protegga lateralmente dagli urti, e che ci aiuti davvero tanto a camminare anche lateralmente in obliquo, in caso di passaggi magari un pochino tecnici. Passando poi al tallone, qui troviamo un tallone bello strutturato nella parte inferiore, che pian piano si destruttura, arrivando alla parte superiore ad essere abbastanza morbido. E complice, o comunque un'altezza dell'intersuola non troppo alta, il plate in fibra di carbonio in questo tallone, vi assicuro che è una scarpa veramente molto molto stabile. Complice anche il peso, che naturalmente è bello deciso, vi assicuro che questa scarpa io ho trovato decisamente stabile. Anche che fa andare su terreni molto molto tecnici, io non ci ho preso davvero nessuna storta. Per quanto riguarda poi l'imbottitura, è abbastanza imbottita, ci aiuta molto l'imbottitura anche a camminare in obliquo sui terreni tecnici, come vi dicevo, e comunque non ho avuto problemi di vesciche, quindi davvero un'imbottitura abbastanza classica, ben fatta. Per quanto riguarda i lacci e la linguetta, linguetta molto classica, bella imbottita, resta ferma, isola bene dai lacci. I lacci anche loro molto classici, nulla di particolare. La particolarità però è che grazie all'esoscheletro exo che vi dicevo prima, sia una calzata veramente molto fasciante, che contiene molto bene il piede. Quindi la combinazione tra tomaia e lacci, quella sì che mi è piaciuta. Arrivando a parlare invece di soletta, questa è una classica soletta di scarpa, estraibile. Io mi ci sono trovato bene, ho provato a bagnare anche la scarpa e non ho avuto problemi. Io personalmente andrei tranquillamente avanti a utilizzarla. A livello di calzata, beh, diciamo che nella parte anteriore c'è abbastanza spazio. Non è sicuramente una scarpa definibile wide, però c'è qualche millimetro in più per quando il piede durante le ultra va ad ingrossarsi. Tendenzialmente io vi direi, prendete il solito numero che prendete di scarpa, non c'è bisogno di prendere né mezza taglia in più né mezza taglia in meno. A che tipo di corridore consiglio queste Ribelle Run XT? Secondo me queste scarpe sono perfette per dei corridori pesanti. Per dei corridori pesanti, soprattutto per dei corridori che nelle gare camminano tanto. Cioè, chi per intenderci intende le gare da trail running più come se fossero del fast hiking. Con le persone che camminano tanto in salita, magari se la corricchiano camminano anche in pianura e corrono in discesa. Come dicevo, delle persone pesanti, qui davvero io andrei dagli 80 kg in su. Secondo me non è adatta per chi è abbastanza leggero. Perché in quel caso avere comunque una scarpa che pesa 350 grammi, si sente e non vi darebbe modo di esprimere la vostra velocità, comunque la vostra leggerezza. È una scarpa davvero per chi ama fare le gare, ama prendersela con comodo, non ha ambizione di classifica e soprattutto vuole una gran protezione. Su che terreni la utilizzerei? Diciamo alla fine un po' tutti. Come dicevo, al di là del fango, che non è sicuramente la scarpa più adatta per quel terreno, per il resto possiamo usarle praticamente su quasi tutti i tipi di terreno. Per quanto riguarda le gare, io vi direi di utilizzarla soprattutto per le ultra. Quindi magari gare da 50 anche a 350 km, senza nessun problema. Gare che possono andare dai 1000 metri di quota ai 3000 metri. Davvero è abbastanza polivalente da questo punto di vista. Detto ciò, arriviamo alle conclusioni per queste ribelle Run XT. Vengono vendute a un prezzo di 190 euro sul sito di scarpa. Online si trova in questo momento sui 170 più o meno. Ve le consiglio, sì. Sì, perché questa è un'ottima scarpa davvero per tutto quel pubblico, tutte quelle persone che interpretano davvero il trail come se fossero dei lunghi trekking. Tutte quelle persone che hanno bisogno di una scarpa che gli dia protezione. Quelle persone che vogliono una scarpa che le aiuti a non finire fuori strada e soprattutto le aiuti a portare a termine delle gare lunghe. È da avere una scarpa che mi è piaciuta tanto. Ve la consiglio anche se doveste farci del fast hiking o del trekking. Quindi sì, ragazzi, a me veramente è piaciuta tanto. Dato ciò, io nella speranza sia stato esauriente e esaurito anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!